Io sono Elena, una donna sempre immersa nelle semplici ma preziose routine quotidiane. Che si è persa tra le vivaci bancarelle del mercato, coinvolta a infrenetica attività lavorative, impegnata nelle faccende domestiche. Con me c'è sempre il mio fedele amico a quattro zampe, Marley, compagno silenzioso delle mie avventure. Beh, forse non così silenzioso. Oltre che un amico, Marley è anche un importante sostegno nel mio impegno per il sociale. Insieme, infatti, ci dedichiamo come volontari ad un'associazione locale, seguendo gli addestramenti con passione e dedizione. Eppure, dietro questa apparente normalità, si cella una battaglia silenziosa. Una malattia fatta eruzione nella mia vita, portando con sé sfide e incertezze. Io sono Alice e questa è la mia vita, fatta di semplici momenti e connessioni speciali, come quella con Polina, amica dentro e fuori dal campo. Insieme affrontiamo le piccole sfide quotidiane, allenamenti che ci fanno sudare, lo studio che ci impegna e le passioni che ci fanno sorridere. Troviamo anche il tempo per immergerci in un mondo di solidarietà, seguendo il gruppo cinofili Leonessa Brescia, dei volontari della protezione civile sempre pronti a soccorrere il prossimo. E l'associazione AIL Brescia, che si prende cura dei pazienti onco-ematologici attraverso la ricerca e l'assistenza. E alla fine ci ritroviamo nello spogliatoio, un luogo di condivisione con le altre ragazze. Ed è proprio qui che realizziamo come anche noi possiamo fare la differenza, attraverso la determinazione e la voglia di vincere per loro. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.